Bentornati, bentornati cari, come state? Bentornati in questo nuovissimo videace, oggi video di analisi, di opinioni, di condivisione anche di commenti qua sotto nella sezione perché è importante confrontarsi sulla visione delle parole, ha parlato Giulini, intervento abbastanza inutile nel senso che per quanto mi riguarda dopo che una squadra in quella situazione e vedendo le altre che mercati facevano a gennaio che fa quei due colpi lì e vende Goldaniga per me è una squadra completamente dismessa già a livello societario e quindi andiamo un attimo ad analizzare, vi dico la mia su queste parole che poi sono da prendere molto con le pinze perché è una persona che quando ha parlato ha detto sempre una marea di fregnacce in questi anni Allora, iniziamo un attimino un'analisi generale, cioè lui ha molto puntato il dito contro i giocatori chiedendogli di prendersi le proprie responsabilità e comunque sottolineando un aspetto importante che si retrocederà se si dovesse retrocedere, ma insomma, sembriamo indirizzati in tal senso con Ragneri Io personalmente questa è una scelta che condivido, nel senso che, ora vi spiego, è una scelta che per quanto mi riguarda, se oggi qualcuno mi dovesse chiedere per te Ragneri ha la situazione in mano decentemente per salvarsi, per me io vi dico di no, io vi dico sinceramente di no ma poi non vuol dire che questo che Ragneri ha solo lui le colpe, tutt'altro, vi ho detto tutt'altro in tutto questo percorso però ad oggi sinceramente Ragneri lo vedo molto molto in confusione, molto molto in confusione però è giusto che rimanga Ragneri perché come Ragneri è stato il parafulmine che ha permesso anche di Giuliani di stare più sereno in situazioni raccapriccianti come la prima parte di stagione e tutt'altro, e tutte le altre situazioni è giusto poi che quando uno sceglie di rimanere con Ragneri, di fare certe scelte di mercato su forza indicazione di un allenatore è giusto poi alla fine che ognuno si prenda le proprie responsabilità e si vada sino alla fine con questo percorso perché a Cagliari deve crollare qualsiasi cosa, cioè non voglio vedove, non voglio robe cioè allora andiamo sino in fondo con Ragneri, la scelta è stata fatta a inizio anno con certe scelte, con certe considerazioni con certe valutazioni, ok? La scelta è stata fatta, motivo per cui per quanto mi riguarda si deve andare sino alla fine con Ragneri è il profilo giusto per salvarsi ad oggi? No, il problema è che con questa rosa ci sono veramente pochi profili giusti con cui salvarsi cioè gli allenatori da scossa, forse Ballardini, tra l'altro video col Braina, a breve, dobbiamo organizzare col Braina forse con Ballardini, ma voglio dire poco altro, cioè ragazzi parliamoci chiaro, sta squadra fa veramente pena poi ecco è arrivato infatti proprio su Ragneri invece è arrivata quest'altra notizia delle dimissioni probabili che lui voleva dare, è stato convinto da rosa e quant'altro, posto che non so se sia vero ma qualora lo fosse non è neanche una cosa così, non sarebbe una cosa clamorosa onestamente cioè con la rosa a disposizione io pure mi sarei dimesso, ve l'ho detto, il primo anno dove non saprei dove mettere mano con sta rosa quindi con queste dimissioni se la rosa, se tutto il Cagliari calcio gli ha chiesto gentilmente di rimanere allora ragazzi cioè qua siamo di fronte, la prossima partita vediamo se queste cose sono vere o meno perché nel momento in cui la rosa va dall'allenatore che si vuole dimettere e dice no 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 tu rimani cioè io mi aspetto che con l'Udinese o contro chi è la prossima mi sembra l'Udinese cioè il Cagliari deve morire in campo, cioè deve morire in campo se vuoi e tieni l'allenatore e lo vuoi tenere in panchina cioè questa notizia verrà provata contro l'Udinese, se il Cagliari contro l'Udinese non vince, non vince contro l'Udinese cioè sappiamo che questa era una fregnaccia perché voglio dire, cioè le motivazioni in una squadra scarsa come il Cagliari contano più di qualsiasi altra cosa, ok? Contano più di qualsiasi altra cosa, quindi questo lo verificheremo subito poi per quanto riguarda, entrando nel vivo, per quanto riguarda il sottoperformare della rosa del Cagliari ma io sono relativamente d'accordo e in disaccordo cioè è vero che certi giocatori sottoperformano enormemente rispetto all'investimento fatto e ha tirato fuori ovviamente i nomi dei centrali e quant'altro ma voglio dire, la rosa non performante è stata data dalla società cioè voglio dire, questa rosa non è che ha sottoperformato, prima aveva dato delle performance che erano riscontrabili sul campo, no? Come il gruppo della serie B seppur ci sarebbe stato un cambio di categoria ma i vieteschi e gli azidiaco sottoperformano rispetto a che cosa? rispetto a delle aspettative che tu col tuo scouting hai fatto in moderrato cioè non è che sottoperformano rispetto a erano giocatori con esperienze in serie A che tu prendi e non rendono e allora lì sì che parli di sottoperformance anche se non erano già prima al Cagliari ma nel caso di azidiaco se vietesca sottoperformano rispetto alle aspettative folli che ha fatto la società e acquisti folli che ha fatto la società in questi casi, ok? e sono due giocatori veramente terribili, veramente imbarazzanti poi chi altro è che sottoperforma? Shomurdov che da tre anni non ingroppa una stagione? Petagna ha preso l'ultimo giorno di mercato con 10 kg di troppo? chi è che sta sottoperformando? il Wumbo che ha fatto la migliore stagione della sua vita? un ristagno che dal nulla esce ed è un giocatore fenomenale? cioè ragazzi chi è che sta sottoperformando? andiamo ad analizzare queste parole perché poi uno dice ah sta sottoperformando la rosa e dice ah sì sì è vero sottoperformando la rosa ma chi è che sta sottoperformando? non sta sottoperformando proprio nessuno cioè la cosa grave è questa che non sta sottoperformando nessuno non sta sottoperformando nessuno la padula in serie A ha sempre fatto questo ovvero pena ovvero pena ovvero pena il problema è che inizio anno ad agosto cioè chi è che parlava di queste cose? io e io io e io mi dispiace cioè ma non è un ah io lo dicevo o lo dicevamo noi qua sul canale è un dire che queste situazioni erano ampiamente prevedibili e che d'estate l'abbiamo detto enormemente con questo attacco attenzione che se se Petagna non ha quella preparazione fisica di cui avevamo parlato che andava preso un mese e mezzo prima e tutte quelle problematiche del caso questo attacco ragazzi attenzione perché qua si scende attenzione che qua si scende se quella difesa con sti problemi linguistici ste cose problemi linguistici ci sono ancora ma non ci sono solo quelli ci sono problemi tecnici e tattici incolmabili incolmabili accentuati dalla cessione di Goldaniga dalle cessioni di Altare compagnie cantanti ok cioè analizziamo questo sottoperformare analizzate giocatore per giocatore cioè ecco uno che ha sottoperformato le prime partite è Boris su quello sono d'accordo ok lui è l'unico di cui si può parlare di sottoperformance ma gli altri ma chi è che sta sottoperformando Pavoletti sta overperformando all'ennesima potenza le vittorie fatte sono arrivate grazie a lui Azzi sta performando normalmente Augello è inquietante ma alla fine quel giocatore era anche la Sampdoria cioè quando è arrivato vi ho detto per quella cifra e dando via Barreca che aveva uno stipendio importante faceva vomitare è un giocatore onesto ma a me non piaceva ve lo dissi subito al primo video però cioè cosa vuoi dire chi è che sta sottoperformando Zappi di Pardo ma stanno performando normalmente Dossena sta overperformando per quanto mi riguarda Obert non sta superperformando ma è un ragazzo giovane dove il percorso di crescita non esiste perché viene fatto giocare una volta ogni sei mesi e viene messo titolare nei campi più difficili al mondo Prati sta overperformando Sulemana comunque sta performando normalmente Makumbo normalmente chi è che sta sottoperformando cioè sottoperforma sta sottoperformando chi hai preso d'estate e pensavi fosse un fenomeno ma non lo era evidentemente non lo era evidentemente e anche qua forse andrebbe rivisto un po' lo scouting cioè voglio dire ma questi giocatori vengono presi perché c'è una rete di scouter che dice ah questo è forte questo è bravo ma cioè ragazzi ma li avete visti ma io al di là di Azzidiakos che voi ce l'avete più con Azzidiakos ma Vietesca signori ma è una roba ma è una roba indecente cioè ma io un difensore così scarso ma vi giuro ha preso quelle cifre ma da tanto che non lo vedevamo qui sottoperforma Sulemana è un discorso che non regge cioè sottoperformando rispetto a nulla cioè la rosa del Cagliari è scarsa le cose sono quelle stanno performando bene o male tutti normalmente per andare a salvarsi devono performare perché non vedo sti grandi attributi onestamente poi questione del mercato che gli hanno chiesto lui ha detto se qualcuno vuole comprare il Cagliari perché non posso mettere tot soldi d'estate tot d'inverno io in questo sono anche d'accordo nel senso che è chiaro che non è che un presidente possa mettere ogni sessione di mercato 20-30 milioni sul mercato posto che quest'anno non li ha messi e non li mette da un po' di anni ma comunque posso essere d'accordo il punto è anche qui che ci sono delle dinamiche delle situazioni che vanno intercettate Cristo Santo ok ci sono delle dinamiche che vanno intercettate dinamiche che vanno intercettate esempi esempi importanti ci sono giocatori fuori da progetti di grandi squadre interessantissimi e quelle sono le opportunità da cogliere per fare i salti qualitativi anche con prestiti anche con prestiti secchi in queste situazioni gravi vi faccio degli esempi i due che mi vengono più lampanti dove sono le stesse squadre grandi che ti vanno a pagare parte dell'ingaggio mandando via i giocatori perché pesano troppo sia come uomini nello spogliatoio sia come cioè McKennie McKennie torna da Lizza retrocesso quindi è andato a giocare in una squadra in Inghilterra che retrocessa quindi non stiamo parlando di un giocatore che gioca solo per Top Club ok dove la Juve stessa aveva pagato una parte dell'ingaggio come ha fatto con Arthur che adesso è alla Fiorentina McKennie arriva a luglio ed era fuori rosa era fuori rosa e si parlava di qualsiasi destinazione per lui ma per quale motivo il Cagliari non è andato a interessarsi di McKennie buon signore ma perché non è andato a dirgli senti facciamo una roba noi te lo prendiamo ti paghiamo il 50% dell'ingaggio ma cavolo ti prendevi un giocatore che è titolare nella seconda squadra in Serie A che sta facendo una stagione incredibile è un giocatore che tra l'altro ha più il senso del gol di un Nandez ad esempio è un giocatore che corre tanto che si sacrifica che non è uno lezioso è un giocatore che secondo me anche in una realtà da salvezza può integrarsi bene primo esempio secondo esempio che a tanti di voi non piace ma Moise Kenne Moise Kenne ha un senso del gol a mio avviso clamoroso Moise Kenne è un giocatore che con una piazza dove viene servito bene viene valutato positivamente dall'ambiente ma è un giocatore che 10 con la stagione te li fa senza problemi è un giocatore tra l'altro anche per i nostri lancioni lunghi che io onestamente vedevo bene anche lì vai giocatore adesso fuori rosa adesso sta rientrando un infortunio ma comunque fuori rosa vai sto paghiamo 50% noi 50% allora l'ingaggio prendiamolo prestito bomb voglio dire il momento in cui tu ti devi salvare il momento in cui così poca pochezza a livello di tutto economico tutto cerca di arrivare a queste soluzioni e poi anche quando fai i discorsi a prestito di Gaetano si ma Gaetano ora stiamo valorizzando un giocatore che è in prestito secco per il Napoli Gaetano è un giocatore forte io l'ho visto veramente ma non ha sbagliato un passaggio è veramente un bel giocatore cavolo ma pensate una tre quarti oristagno e Gaetano ma che bella tre quarti che staremo vedendo ma che bella tre quarti il problema è che cosa vuoi dire di Gaetano cosa vuoi dire cosa vuoi dire in prestito secco poi forse si parlerà ma cosa parli ma di cosa vuoi parlare che sto giocatore se fa sei mesi giocati come gli ha giocati contro la Lazio vale 30 milioni ma di cosa di cosa devi parlare il mercato il mercato e poi dice ho soddisfatto tutte le richieste che sono arrivate ma sì però bisogna anche vedere questi profili posto che io vi giuro che avrei la curiosità enorme di sapere chi ha deciso di smembrare il gruppo della B se è stato Ragneri se è stato veramente Ragneri io ora di Giulini non mi voglio fidare e quindi questo è una sono ragionamenti che stiamo facendo così ad alta voce ma dove se è stato Ragneri lì allora la percentuale di responsabilità varia perché per me chiunque sia d'abbonato a Ragneri a Giulini che ha deciso di prendere il gruppo della B e smembrarlo per me il principale responsabile è di questo schifo ok per quanto mi riguarda chi ha deciso di cedere al Tare Lella Kurfalidis e tutti gli altri ok Goldaniga e tutti gli altri quindi si difensori di esperienza internazionale che sono vomitevoli voglio dire vomitevoli e che pesano anche tanto a bilancio quindi queste tutte queste cose qua poi ripeto anche l'acquisto di Mina cioè giusto per capire perché poi vedo ah Mina grande difensore voi l'avete vista la partita con la Lazio o no ma poi come può venire di difendere con la difesa a centrocampo ho messo prima del gol una storia su Instagram ho detto se difendiamo con la difesa a livello del centrocampo cosa succede? succede questo succede questo che poi è successo poco dopo cioè non puoi con Dossene e Mina che sono due lenti clamorosi difendere in quel modo paradossalmente avrebbe più senso con Azidiacos o con Hobert non lo so poi con L'Udinese appunto quello che vi ho detto prima e e appunto anche il discorso cessione l'abbiamo toccato ok mi ero fatto una mini scaletta quindi questo era il video fatemi sapere voi cosa ne pensate un bacione ciao ragazzi grazie